Questa è un'attività importantissima, io dicevo prima e velocemente, è vero che è un video affrontato al di là del grande valore spirituale che ha sottolineato, soprattutto mio ben prezzato padre, ha sottolineato il delegato di una sua fisica, però è un evento straordinario, realizzato, organizzato risorse ordinari, ma non ordinario dal punto di vista umano, la capacità di puntare il cuore oltre l'ostacolo che sta emergendo in questi mesi di lavoro ordinato. La straordinarietà di queste umanità trova un'ulteriore testimonianza di tanti ragazzi che si stanno formando per dare il loro sostegno a chi raggiungerà Roma in questi mesi, in occasione del Giubileo. Questo è il dato che ho voluto più sottolineare che credo meriti, mi ripeto, una sottolineatura. Per il resto è il solito, grande, alle volte silenzioso, alle volte sottotraccia lavoro, che fa la scuola di formazione alla protezione civile della città metropolitana, capitale lavoro, grande intesa con la prefettura e sotto il capitamento della prefettura e con Roma capitale, i soldi del lavoro pian piano si vede.